Come ogni anno si celebra presso il Colle della Sietta la rievocazione della storica battaglia del 19 luglio 1747 con figuranti in diviso dell'epoca. A oltre 2.500 metri di quota tra le valli Chisone e Susa si affrontarono i 20.000 francesi e spagnoli e i 7.500 piemontesi. Dopo ore di aspri combattimenti col calare della notte i francesi si ritirarono. Si trattò di una vittoria eroica che condusse alla formazione del Piemonte moderno.